we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi tantissime novità incredibili per quello che riguarda il video di oggi è arrivata una tonnellata di spoilerate riguardanti tutte le ricompense relative ai possessori dei samsung ma parleremo anche di alcuni aggiornamenti per una skin che sta per arrivare e per l'arrivo di thor insomma ragazzi tante tante notizie prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e arriva direttamente da samsung according to samsung support the four night galaxy girl outfit will be call galaxy scout questo ragazzi sarà il nome ufficiale della skin galaxy femminile si chiamerà galaxy scout al suo pokemon go players get get a galaxy avatar tutti i giocatori di pokemon go prenderanno gratis un avatar galaxy arriva direttamente dal supporto tecnico di samsung e sappiamo che la skin galaxy femminile sarà basata su questo outfit ragazzi l'abbiamo già vista questa è una skin non comune uscita parecchie volte nel corso degli anni di fortnite e don è invece quella di cui avevamo parlato questo ragazzi rimarrà solamente un concept abbiamo però un'immagine molto interessante ve la faccio vedere tra un secondo perché ci sono invece delle notizie incredibili summer of galaxy news dates and more quindi un'estate per il galaxy le notizie le date e molto altro qualcuno ha spoilerato tutte le ricompense le andiamo a vedere insieme e sappiamo ragazzi che la cap quindi il torneo galaxy sarà su fortnite il 25 e il 26 luglio quindi alla fine di questo mese questi ragazzi sono tutti i premi i bonus per tutti i possessori di galaxy a 71 5g s 25 g e not plus 10 5g avranno un anno della di un anno di iscrizione a post mates più 25 euro probabilmente di crediti per post mates 10.000 samsung reward point che sarebbero 50 euro più o meno e avranno la possibilità di ottenere il doppio dei punti per i samsung fino alla fine di luglio mentre ci sono le ricompense per tutti i dispositivi che possono utilizzare il galaxy store quindi voi che avrete un galaxy saprete benissimo di cosa stiamo parlando abbiamo un netflix sneak peek old guard che sarà dal luglio 6 al 12 luglio che sarebbe una sottoscrizione a netflix che però dovrete attivare se ho capito bene entro il 10 la seconda il secondo premio la pokemon go il pokemon go galaxy style come accessorio che invece sarà dal 13 luglio al 19 luglio la fortnite galaxy cup con l'outfit della galaxy scout che è dal 20 al 26 in realtà sappiamo che la l'evento è il 25 e il 26 netflix sneak peek the umbrella academy da luglio 27 al 2 agosto samsung galaxy paint bundle per forza street quindi una copertura penso per un'automobile forza street forse un gioco di macchine anche qua da luglio 27 al 2 agosto e per terminare special trading offers when trading in your phone for the 5g phone quando sostituisci il tuo telefono e passi a un telefono da 4g a 5g otterrai degli ulteriori premi che non sono elencati quindi ragazzi un sacco di premi per tutti i possessori di un telefono samsung che sopporta il galaxy store tanta tanta roba questa ragazzi invece è molto probabilmente la skin ufficiale della galaxy scout questo ovviamente è un concept ma sapendo che la base è quella che vi avevo fatto vedere molto probabilmente ci abbiamo preso alla grande quindi staremo ovviamente a vedere solo il tempo ci potrà dire se ci abbiamo preso oppure no e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo signore qua ragazzi lo abbiamo già visto nella patch 13.20 si chiama dead bone johnsy in inglese in italiano ancora sinceramente non si sa ed è un fantastico ciccione in ciabatte con tanto di succhino nella tasca e patatine nell'altra arriverà nel set con questo backpack che sarà incluso ovviamente nell'acquisto della skin e oltretutto ci saranno anche i doppi picconi come vedete ragazzi sono una coppia di asce con il logo del durburger e sulla parte frontale hanno una coppia di ciambelle in realtà ragazzi questa skin è molto più di una skin perché è un chiaro riferimento a thor questa è un'immagine presa dal film di thor e come vedete è praticamente uguale tra l'altro nel trailer di capitana america verso la metà circa c'è un altro riferimento a thor che è quella parte di erba bruciata chi ha visto ovviamente il film sa sicuramente di cosa parlo la cosa che ovviamente non sappiamo è quando verrà proposta probabilmente la skin di thor o meglio arriverà in questa season questa nuova collaborazione con gli avengers oppure dovremmo aspettare la prossima diciamo che potrebbe essere molto più di un easter egg aspettiamo con ansia di vederlo anche solo se fosse una skin normale perché è veramente meraviglioso e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle notizie per quanto riguarda aquaman e anche una probabile immagine della skin black manta due notizie al volo come sappiamo ragazzi aquaman arriverà alla fine della quinta settimana di sfide sappiamo anche che black manta è stato trovato nei file di gioco o meglio la sagoma di black manta per chi segue la serie di aquaman sa che black manta è l'antagonista per eccellenza del di aquaman appunto e questa ragazzi è un'immagine che sta facendo letteralmente il giro dei forum e dei video su youtube in questi in queste ultime ore perché sembrerebbe proprio che possa essere la skin giusta adesso una testa larga così alla stewee griffin non è che ci hanno un hitbox che ti fanno headshot anche se ti mirano alle spalle questo è il mio punto di domanda nel senso cioè perché giocare una skin del genere quando si possono utilizzare delle skin che sono molto più ristrette non lo sappiamo quello che sappiamo ragazzi invece è che sono state trovate delle altre parti criptate di questo set questo sembra essere il suo backpack che ovviamente non si sa bene che cosa rappresenti mentre questo sappiamo che è il suo piccone doppio probabilmente potrebbero essere delle spade o roba del genere perché la forma ricorda appunto quella di una lama se andiamo invece ragazzi a vedere questa bellissima immagine della mappa al termine di questa season vediamo come qua in alto c'è anche tutta la nuova location di Aquaman ve la faccio vedere magari un pochettino più chiara in modo da non spaccarvi gli occhi come sapete ragazzi la parte dedicata tra lo squalo e sabbie sudate verrà presa letteralmente da questa location che sappiamo si chiama The Ruins quindi le rovine e sappiamo essere dedicata ad Aquaman è una location veramente molto molto grossa sappiamo che sarà tutta completamente emersa con però delle parti ancora sommerse sarà presente la testa di una donna saranno presenti dei giardini sarà presente un tempio e vi ricordo che se andate nel replay a guardare le tre piccole isolette che sono incominciate ad emergere con l'ultimo abbassamento dell'acqua in una di queste si vede il tridente di Aquaman bello incastonato lo trovate però solo vedendo il replay attenzione perché sennò in game non lo vedete quindi ragazzi anche qua tanta tanta roba insomma ragazzi anche per oggi io tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch ciao 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 ciao